Una Roma blindata per la visita di Vladimir Putin in consueto ritardo oggi. Vi mostreremo le immagini del Dietro le Quinte, commenteremo poi anche con uno sguardo al futuro, alla preparazione dei giovani, alla cultura, anche attraverso l'incontro, il confronto con altre nazioni, le universiadi. E lo facciamo con il nostro gradito ospite in studio, il Rettore della Libera Università Santissima Maria Assunta, la LUMSA di Roma, il professor Francesco Bonini. Benvenuto, Rettore. Grazie. Subito dopo aver guardato e riflettuto insieme sui principali titoli dei Tg della Sera. Eccoli, siamo pronti per cominciare. Governo libico valuta rilascio di tutti i migranti nei centri di detenzione. Non possiamo garantire la loro sicurezza. Ottanta vittime per naufragio a largo della Tunisia. Giornata romana del presidente russo Putin in una città blindatissima. Un'ora con Papa Francesco, ma nessun accenno al viaggio di Bergoglio in Russia. Al Quirinale con Mattarella, poi a Palazzo Chigi per un vertice col Premier Conte. Prima di ripartire l'incontro con Silvio Berlusconi, definito dal capo del Cremlino un politico di statura mondiale. Putin a Roma, incontro con il capo dello Stato e conferenza stampa con il Premier Conte, con Mosca rapporto eccellente, nonostante le sanzioni. Un corteo che ha impiegato più di due minuti per attraversare Piazza Venezia. Fra l'altro la Lumsa si trova a pochi passi dal Vaticano e quindi si è visto un pochino sotto gli occhi attraversare e arrivare dunque Putin per la terza visita con Papa Francesco. Che pressione si è fatto di questo incontro? Direi una cosa positiva. Putin è un interlocutore importante della politica internazionale e quindi il viaggio a Roma sia nella Roma dello Stato italiano sia nella Roma papale credo che sia un fatto importante perché la Russia è un riferimento significativo. Stiamo vedendo alcune immagini e forse siamo noi un po' troppo abituati a cercare di decodificare attraverso le espressioni per cercare di carpire un momento o l'altro di apprezzamento o meno nell'enigmatico anche rappresentanti di uno scacchiere internazionale in cui oggi è un punto di riferimento imprescindibile. Sì, è un punto di riferimento anche per la longevità della sua presenza e per la spregiudicatezza delle sue mosse. D'altro canto è anche vero che la Chiesa Cattolica e Papa Francesco si muovono nello scacchiere mondiale con energia e anche con una capacità di visione per spezzare gli schemi che può permettere un'interlocuzione significativa anche con una personalità come Putin. Russia ma anche Stati Uniti, lo vedremo insieme, anzi facciamolo adesso attraverso gli altri titoli dei TG andati in onda pochi minuti fa. Guardate con noi. Adesso è legge, i senatori francesi l'hanno votata all'unanimità, vietato ai genitori dare schiaffi e sculacciato ai figli nemmeno a scopo educativo. La proibizione d'ora in poi sarà letta durante il matrimonio alle nuove coppie ma per chi sgarra non c'è molta né pena. Stromboli ancora instabile vulcano, arresta l'allerta gialla, vietate le escursioni, il vento alimenta gli incendi, canadere in azione, navi in rada per eventuali evacuazioni. Imponente come un colossal, la grande parata militare voluta da Donald Trump per celebrare il giorno dell'indipendenza. Infuriano le polemiche sui costi dell'evento e sul discusso saluto all'America che il Presidente pronuncerà dove nel 1963 Martin Luther King tenne il celebre discorso I have a dream. Sembra di vedere due scenari del mondo insieme nello stesso giorno pensando poi agli Stati Uniti, alla politica muscolare di Donald Trump che segue ad un Nobel per la pace come Barack Obama. Il 4 luglio è una grande data, una data importante non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo e certamente Trump è in campagna elettorale e quindi tutto si spiega in questo senso. La politica ha le sue leggi ferre. I nostri contatti per scriverci e porre domande o anche una riflessione, un commento ai fatti di oggi potete utilizzare gli strumenti tradizionali sapete che noi siamo un po' digitali quindi oltre a Twitter, Facebook e la mail abbiamo anche la possibilità di poter voi registrare un WhatsApp audio magari breve presentandovi eccolo che compare in 335 69 33 132 per intervenire direttamente. Mi viene una battuta, in Francia niente scolacciate i figli all'università vengono più cresciuti ma lei che cosa ne pensa? Io ormai sono in età di nonno però gli scolazioni servono gli schiaffi è un altro capitolo però gli scolazioni assolutamente sì queste qui sono delle sciocchezze politicamente corrette che non vanno veramente da nessuna parte. Allora c'è un tema che riguarda proprio in questi giorni i giovani i giovani nell'incontro tra culture e nazioni diverse fra l'altro questo avviene in Italia con uno sguardo che intende abbracciare il mondo intero parliamo delle universiadi ne ha parlato oggi alla TG2000 Federico Plotti ecco il suo servizio per capire che cosa sono guardate un po' Con una cerimonia spettacolare in uno stadio San Paolo Stracolmo si è aperta ieri sera a Napoli la trentesima edizione delle universiadi l'Olimpiade è riservata agli atleti iscritti all'università un vero e proprio festival internazionale dello sport che si ripete ogni due anni dal 1959 anno della prima edizione voluta fortemente dal dirigente sportivo italiano Primo Nebbiolo e organizzata a Torino un'occasione unica d'incontro tra culture e tradizioni diverse che non poteva che ricevere anche l'attenzione speciale di Papa Francesco che qualche settimana fa ha benedetto la torcia l'universalità dell'evento racchiusa anche nel suo simbolo 5 stelle, una per ogni continente sormontate dalla lettera U a simboleggiare un grande abbraccio presente anche il presidente della Repubblica Mattarella che ha dato il via ufficiale alle competizioni e che prima della cerimonia ha incontrato la piccola Noemi la bambina ferita gravemente il 3 maggio scorso a Napoli da un proiettile vagante dal calcio al basket dall'atletica al judo sono 18 le discipline sportive in cui si cimenteranno per due settimane all'ombra del Vesuvio 6.000 atleti provenienti da 118 paesi del mondo sullo sfondo la magia di Napoli e la bellezza unica del suo golfo oggi giorno di gare e di medaglie il primo oro se l'ha giudicato la Cina nei tuffi sempre dai tuffi è arrivata anche la prima medaglia italiana il bronzo conquistato da Gabriele Aubert nel trampolino da 3 metri professore un'occasione davvero unica fra l'altro anche una studentessa della Lums si è stata tedoforo perché come è stato ricordato Papa Francesco ha benedetto la torcia e quindi per via della conciliazione una nostra studentessa del nostro gruppo sportivo ha percorso e questa è una bella cosa perché le università sono una cosa importante lo sport è una cosa fondamentale nella vita dei giovani anche nella formazione e quindi fare sport e fare sport all'università è una cosa assolutamente decisiva mi permetto di notare come forse non è stata data abbastanza enfasi o attenzione nel racconto giornalistico di questo appuntamento almeno da un punto di vista quantitativo di spazio beh perché alle università di non si fanno i record l'università di è una manifestazione sportiva nel senso diciamo così più cubertiniano del termine e quindi non c'è tutta quella quella macchina comunicativa e anche diciamo così di interessi commerciali che sono legati invece alle grandi manifestazioni professionisti l'interesse oggi era tutto puntato sulla città di Roma e sulla visita di Vladimir Putin noi con Augusto Cantelmi il nostro parlamentarista autore dei Montecitorio Selfie siamo andati a curiosare nel dietro le quinte cioè tra la gente che aspettava in fila per ore in una capitale blindata andiamo a vedere le loro voci chi ha incontrato e che cosa ha raccolto e che cosa ha raccontato ti stanno aspettando il numero uno al mondo adesso stiamo aspettando per ora negli ultimi vent'anni è l'unica persona che è riuscita a bilanciare il mondo e lei di dov'è proprio? sono di Odessa Putin ha ridato al paese l'orgoglio e la dignità è un'esplosione è un'esplosione è un'esplosione erva la rucksare è un'esplosione l'esplosione Grazie al nostro Augusto Cantelmi, questo è quello che accadeva dietro le immagini ufficiali. Ricorderete giorni fa anche le prove a Palazzo Chigi per far entrare questa macchina così particolare e creata apposta. Vi aggiorno su questo, andiamo sull'home page del Corriere della Sera. Putin ha terminato il vertice con Conte, ci aggiorna ora la cena a Villa Madama. Contatti costanti con la Lega di Salvini e il vergolettato, dopo l'udienza a San Pietro con Papa Francesco, il colloquio con il Presidente della Repubblica al Quirinale, vedete il Presidente russo ha incontrato per un'ora e mezza il Premier Conte. Questa sera cena anche con i due Vice Premier. E poi in apertura due immagini forti che riguardano l'ambiente. Uno che arriva dagli Stati Uniti, lo avete sentito anche durante il telegiornale, qui sembra aumentare la magnitudo a 6.4 nella California meridionale, pensate il più forte dal 1994. Ricordiamo che la California ha portato le ferite in diverse città ancora oggi, portando proprio ad una vera e propria ricostruzione queste città, una scossa durata a pochi secondi. Ancora non ci sono aggiornamenti e speriamo non ce ne siano su vittime o incidenti. Un'altra immagine forte che invece arriva dal nostro paese, dalla Sicilia, un altro video dove è possibile vedere, oh look, quindi registrato, oh my God, anche in questo caso il Citizen Journalism, che si trova in quel momento a registrare il video del momento dell'eruzione dello Stromboli. Ancora fiamme, resta l'allerta. E certo, vedete semplicemente anche da questa schermata come è forte l'impatto. A proposito di immagini, di foto, tra poco vedremo la foto del giorno, noi il Rettore cerchiamo un po' di studiare anche noi e ricercare un po' la buona notizia. Non è sempre facile, eh? Non è sempre facile. Ve la mostriamo, riguarda anche la ricerca, quindi legata alla sua presenza oggi, oggi qui, un'occasione in più di riflessione. Parliamo di malattie genetiche rare, che è un tema che nonostante abbia questo aggettivo raro deve invece coinvolgere e sollecitare l'attenzione e la generosità di più persone possibili. Oltre 11 milioni di euro alla ricerca italiana attraverso Teleton, sono state così riconosciute in questo bando che li assegna e che finanzierà 35 progetti e sostiene così il lavoro di 50 gruppi di ricerca in tutta Italia. Quanto è importante? Perché sulla ricerca forse si investe ancora poco. Sulla ricerca si investe ancora poco e soprattutto non c'è una sensibilità e anche una decontribuzione adeguata per poter investire sulla ricerca a tutto campo, sia la ricerca medico-scientifica in senso stretto, sia anche la ricerca in altri campi culturali. Però mi permetta di ricordare che tra i protocolli e, diciamo così, tra i frutti della visita di Putin c'è anche un importante protocollo con il Bambin Gesù, che è un'altra grande eccellenza di ricerca e di cura italiana, con la quale peraltro la LUMSA ha una serie di collaborazioni per gli aspetti, diciamo così, di carattere educativo. Quindi si fa molto, ma si potrebbe fare di più se ci fosse una migliore regia e se ci fosse anche una sensibilità più ampia nell'opinione pubblica e nei decisori politici. A proposito di Bambin Gesù, mi viene in mente come quest'anno siano celebrati i 150 anni dalla fondazione, anche la LUMSA, un bel appuntamento, un traguardo di crescita. Noi festeggeremo gli 80 anni, ci sarà l'incontro, la festa con Papa Francesco il 14 novembre e nel giorno dell'anniversario, il 25 ottobre, ci interrogheremo con rappresentanti delle università internazionali, la Presidente mondiale e la Presidente europea, ci interrogheremo proprio sul tema che cos'è un'università oggi, perché cercheremo di dare delle risposte sempre più adeguate. Allora, grazie al Rettore Francesco Bonini per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie davvero. Noi concludiamo sempre con un dulcis in fondo, legato a due date questa volta, per la stessa persona. Parliamo di Giorgio Lapira, il sindaco Santo, lo fu di Firenze, proprio venne e divenne sindaco il 5 luglio del 1951 e Papa Francesco lo ha proclamato venerabile un anno fa, il 5 luglio del 2018. Grazie per averci seguito, domani con Caterina Dall'Olio. Grazie ancora, Rettore. Il nostro dulcis in fondo.